Udienza di merito al Tarmolise dedicata ancora alle due centrali a biomassa di Campochiaro e di San Polo Matese, in particolare uno stolo di avvocati Stefano Peti e Biaggio Giancola per la ditta di zio, Colalillo, Dinezza e Crocetta per la Civitas, società riconducibile alla CET e al presidente Paolo Frattura, il quale ha poi ceduto le quote al suo socio Luca Di Domenico, hanno contestato sia la revoca sia l'annullamento delle relative autorizzazioni decise dalla regione dopo averle concesse allegramente sull'onda delle poterose proteste popolari. In alternativa al ripristino dei permessi, le due società hanno chiesto un mega risarcimento e precisamente oltre 24 milioni di euro la ditta di zio e 8 milioni e mezzo di euro la Civitas. Alle richieste delle aziende si sono opposti i comuni del Matese, associazioni e cittadini difesi dagli avvocati Margherita Zezza, Pino Ruta e Massimo Romano. Le richieste indennizzatorie sono comunque successive, cronologicamente e giuridicamente, rispetto alla deliberazione principale a cui è chiamato il Tribunale amministrativo regionale che riguarda i ricorsi promossi dai cittadini, dagli imprenditori e dai comuni dell'area Matesina per l'annullamento di quelle autorizzazioni. È evidente che laddove il TAR, come noi proponiamo e come ci aspettiamo che sia, ove il TAR annullerà i provvedimenti originari di autorizzazione delle due centrali a biomasse, evidentemente le istanze indennizzatorie cadranno nel vuoto. Quindi massima attenzione da parte nostra rispetto a questo primo step. È indispensabile che si accertino le carenze istruttorie sotto il profilo ambientale, paesaggistico, sismico, geomorfologico, oltre che i profili di omesso dovere di astensione per situazioni di potenziale conflitto di interessi che sono stati posti alla base dei ricorsi promossi appunto da comuni, cittadini e imprenditori a verso le due centrali. I difensori delle due aziende mantengono rigorosamente le bocche cuscite, ma a parlare sono i rappresentanti del comitato no biomasse e le inossidabili mamme di Campogliaro presenti alla discussione in aula. Questa è la storia infinita. Praticamente con tutti i ricorsi che ci sono, corsi e ricorsi, rischiamo che si riparta da capo, cioè che tutto quello che è stato fatto non è servito a nulla. In questo periodo stiamo assistendo alla morte di tanti giovani, giovanissimi, 38-40 anni. La vita delle persone quanto vale? Ci volete pensare, cari politici? Che causa del suo mal pianga se stesso? Devono smetterla, è finita, devono capire che adesso devono finirla. Noi stiamo qua per dimostrare che noi teniamo al nostro Matese, alla nostra terra e loro stanno tirando troppo per le lunghe. Noi non ci fermiamo, andiamo sempre avanti e succeda quel che succeda. Dopo l'ampia discussione, il Collegio del Tar, composto dai giudici Antonio Onorato, Luca Monteferrante, Domenico De Falco e Orazio Ciliberto, si è riservato di decidere nel merito della spinosa controversia.